Marcella di Antoniano. Questo spazio dedicato tutto ai bambini, sono proposti dei laboratori per i bambini da 0 a 14 anni sul tema della musica, della danza, delle lingue, della scienza, proprio per ridare fiducia ai bambini nello sperimentarsi nelle loro attività e senza paura di sbagliare, quindi la fiducia nel mettersi in gioco. Dunque le attività che vengono proposte nello spazio bambini sono attività creative e ricreative, quindi dalla musica per i bambini alla danza, esperimenti scientifici, disegno inglese, quindi sono tutte attività che coinvolgono i bambini nelle fasce di età, diciamo dagli 0 ai 14 anni. Quindi sono previsti i laboratori creativi e anche i laboratori in cui si impara a fare concretamente delle cose. Questo è il Parmigiano-Reggiano? Il Parmigiano-Reggiano invece è un momento in cui ci si sperimenta sullo sport, quindi secondo me è estremamente difficile, però piace molto. Bisogna fare gol. Esatto, bisogna fare gol nei tre cerchi, ma è molto complicato. Bisogna fare gol nei tre cerchi.